Ora, puoi descrivere le circostanze in cui entrasti nello studio Wyatt, Wheeler, Ellermann, Tetlow e Brown? Ti dà fastidio questa musica? Ti piace l'opera? Io non ho molta familiarità con l'opera, Andrew. Questa è la mia area preferita. E' Maria Callas. E' l'Andrea Scenier. Umberto Giordano. Lei è Maddalena. Sta dicendo come durante la rivoluzione francese i rivoltosi diedero fuoco alla sua casa. E' sua madre morì. Salvandola. Lei, senti, dice il luogo che fu la mia culla sta bruciando. Così fui sola. Riesce a sentire l'angoscia nella sua voce? Riesce a sentirla, Joe? Adesso entrano gli archi e cambia tutto quanto. La musica è invasa da una speranza. E ora cambia di nuovo, ascolta. Ascolta. Porto sventura a chi bene mi vuole. Oh, quella solo di violoncello. Oh, in quel dolore. Fu in quel dolore che a me venne l'amore. Una, una voce piena d'armonia. E dice, vivi ancora. Io sono la vita. Il cielo è muto e occhi. Di chiedere, di chiedere, di chiedere, di chiedere. Tu non sei sola. E da creme tu il rapporto Io sto sul mio cammino E ti sorrendo Su lì E spiro Io sono l'amore Tutto intorno è santo Mente, sangue e fango Io sono divino Io sono l'oblio Sono il Dio Che scende dai cieli sulla terra Per fare della terra un cielo Sono l'amore L'amore Sono l'amore 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 Grazie.